Siamo, terzo video, terza parte del libro di Robin Sharma, il club delle 5 del mattino, benissimo, allora, anche oggi un sacco di cose, cercherò di essere un po', non lo so, cioè ci sono tante cose da dirvi e quindi sto cercando di filtrarle il più possibile per dirvi proprio le cose essenziali. Allora, oggi partiamo con i quattro, non siamo ancora arrivati a cosa facciamo alle 5 del mattino, ma ci arriveremo nel prossimo video. In questo video voglio finire di mettere un po' le fondamenta, ok, che sostengono questo grande movimento, che poi è il movimento, cioè io non conosco un genio dell'imprenditoria che non abbia delle abitudini mattutine molto particolari. Tutti i libri che ho sempre letto e studiato sono stati scritti da grandi imprenditori che hanno una routine mattutina, una routine serale, quindi voglio dire, alla fine dipende un po' uno chi vuole diventare da grande e che cosa vuole fare della sua vita, ok? Quindi però per finire, prima di addentrarci proprio in cosa fare alle 5 del mattino, parliamo dei quattro fondamentali dei grandi personaggi. Altra cosa importante, allora ci sono quattro appunto punti fondamentali dei grandi personaggi. Il primo punto è la capitalizzazione del quoziente intellettivo, che vuol dire se io ho un talento, io ho il dovere di svilupparlo e se io desidero fare delle cose per le quali magari non ho un grande talento, io ho il dovere di impegnarmi per sviluppare del talento in quelle aree e continuare a svilupparlo, alzare sempre l'asticella, non pensare mai di essere arrivati allo sviluppo del proprio potenziale, perché è infinito. Il secondo principio fondamentale dei grandi personaggi è la libertà dalla distrazione. Allora per chi ha problemi a gestire le interferenze o le distrazioni, io consiglio, come ho fatto anche in alcune masterclass, come faccio in academy, dovete imparare a spengere il telefono, a non rispondere al telefono, ad avere dei momenti della giornata che sono dedicati appositamente alle risposte di messaggi, richieste, telefonate, eccetera, eccetera. Per questo vi consiglio il libro di Tim Ferris, quattro ore alla settimana, magari lo possiamo fare a gennaio questo libro, perché lui è veramente un radicale di questa regola fondamentale qui, libertà dalla distrazione. Terza regola fondamentale, gestione pratica del talento. Lui ama questa parola talento. Ogni volta significa qualcosa di leggermente diverso. In questo caso, gestione pratica del talento, cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi avere un equilibrio, un totale equilibrio, affinché il tuo talento, il tuo potenziale si fiorisca e si evolva, devi avere un totale equilibrio dei quattro imperi interiori. Quali sono i quattro imperi interiori? C'è il mondo della mente, i pensieri. I pensieri devono avere una certa qualità, devono essere di un certo tipo, non puoi avere pensieri spazzatura nella tua mente, ne devi prendere il controllo e devi pulire. Il mondo del cuore, quindi tutte quelle che sono le relazioni affettive, se non ti dedichi a loro, ti devi dedicare, ti devi prendere cura, devi metterle in salute, devi portare qualità, devi portare valore. E ti devi collegare a quelle che sono le tue emozioni, il tuo sentire, il mondo del corpo, quindi prendersi cura del proprio corpo, prendersi cura di quello che beviamo, mangiamo, l'attività sportiva che facciamo, le vitamine, integratori, piuttosto che magari imbottirsi di farmaci, curare il corpo in maniera preventiva con un approccio integrativo invece di andare solo con il tradizionale approccio all'opatico perché indeboliamo il nostro corpo. E poi il mondo della spiritualità, quindi i quattro imperi interiori sono la mente, i pensieri, il mondo del cuore, le emozioni e le relazioni, il mondo del corpo, prendersi cura del corpo e il mondo della spiritualità, ovvero coltivare quello che è uno spazio interiore di profonda connessione con te, con il silenzio, con te stesso, con tutto quello... difficile mettere questo mondo in parole, però è semplicemente riuscire a creare, a mettere in equilibrio questa parte di noi che viene completamente contaminata e intasata dal fare quotidiano. C'è un momento di spiritualità, di fede, che non deve essere religiosa, può essere spirituale, che è ben diverso. C'è un momento dove noi possiamo semplicemente essere con noi stessi nel silenzio, in questo spazio di esplorazione libera per conoscerci in maniera più profonda. Quindi questi sono i quattro imperi interiori che secondo lui i grandi personaggi hanno in maniera naturale o in maniera, diciamo, consapevole messo in equilibrio. E poi il quarto fondamentale dei grandi personaggi è l'accumulo delle giornate. Cosa vuol dire? Che ogni giorno, ogni giorno è una sorta di mini vita. Noi ci svegliamo, nasciamo e poi viviamo una giornata e poi quando andiamo a coricarci moriamo, solo per rinascere la mattina dopo, rivivere una mini vita e poi rimorire la sera. E lui dice, ogni giorno incarna e rappresenta la nostra vita. Quindi, come la stai vivendo? La stai sprecando? La stai investendo? La stai focalizzando? Stai creando del valore? stai raggiungendo dei micro obiettivi? Cioè, ogni giorno ti metti dei micro obiettivi per avere delle micro vittorie, per avere dei micro risultati e dei micro miglioramenti? Quindi, le giornate non vanno vissute così per inerzia, no? In automatico, inconsapevolmente. Lui dice, no, ogni giornata dovrebbe avere il focus del giorno. Cosa voglio, su cosa voglio concentrarmi oggi? Su quale miglioramento voglio concentrarmi oggi? Su quale piccolo risultato voglio concentrarmi oggi? Perché comunque lui prende la giornata e la tratta come se fosse una mini vita. Molto bello questo concetto. Quindi, siamo proprio, come potete immaginare, siamo, questo libro è dedicato tutto al cambiamento, alla trasformazione, all'evoluzione, ok? Noi siamo in un modo, ma possiamo crescere e possiamo migliorare, ci possiamo evolvere. È ovvio che per evolvere dobbiamo consapevolmente scegliere quelli che lui chiama gli scenari potenzianti. Uno scenario potenziante qual è? È quello dove tu ti metti volontariamente, perché lo decidi, in condizioni molto difficili, tipo svegliarsi alle 5 del mattino, tipo andare a letto due ore prima, tipo non guardare dispositivi un'ora prima di dormire, perché influenza il processo biochimico del sonno e dell'autoriparazione e autoguarigione. Qui io mi ricollego a quello che ho detto nel, non mi ricordo, sarà nel primo o nel secondo video al ciclo dell'abitudine. Cioè ricordatevi che qualsiasi cambiamento è duro all'inizio e è difficile nel mezzo, ma poi è trionfante alla fine. Quindi questi 66 giorni da prendere e investire in un grande miglioramento per la tua vita e per la tua azienda, secondo me, valgono la pena. E ricordatevi anche che il nostro cervello antico, che è radicato nelle abitudini e nei modi di fare, percepirà qualsiasi forma di cambiamento come minacciosa e farà di tutto per trovare scuse, giustificazioni, procrastinare, rimandare, oppure ridicolizzare, nullificare, pur di non fare, pur di non innescare questo processo di evoluzione. Poi si comincia a entrare in quelli che sono proprio lo schema della giornata, del club, delle 5 del mattino, ma di quello ne parliamo nel prossimo video. Vi lascio solo con una riflessione che lui fa sull'autocontrollo, che è fondamentale. L'autocontrollo richiede energia. Richiede energia emotiva positiva, motivo per cui non possiamo avere demotivanti intorno, altrimenti la nostra energia emotiva positiva cala e noi siamo meno capaci di esercitare l'autocontrollo. Perché? Anche qui c'è un processo neurologico in corso, però per farvela breve, succede che se io sono in uno stato emotivo alterato, le facoltà lucide della neocorteccia vengono compromesse e di conseguenza l'autocontrollo cala. Ma, a parte il non avere demotivanti intorno, è anche interessante sapere che l'autocontrollo è al massimo nella prima metà della giornata, a livello sempre biochimico-ormonale. Quindi sciama durante la giornata, per arrivare a sera, che è debole, debole, debole. Ecco perché iniziare prima la giornata e massimizzare quelle 5, 6, 7 ore di autocontrollo forte permette di raggiungere risultati molto importanti. Basta! Vi lascio qui, prossimo video vedremo cosa facciamo alle 5 del mattino. In tutti questi video abbiamo visto il perché è importante partire prima durante la giornata, ok? Vediamo però quando partiamo prima cosa dobbiamo fare. Quindi ci vediamo settimana prossima per scoprire cosa facciamo alle 5 del mattino.